segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te e quindi io a un certo momento ho detto ma a te andrebbe visto che hai mille mila talenti tra gli altri di cantarcela qua sul palco di propaganda live per questo fortunato pubblico che a un certo momento spoiler spoiler ha detto sì questo lo dico non resta sulla domanda no volevo fare la misteriosa però poi è arrivato niente no ma c'ho pure questi chissà perché no però diciamo una cosa che a un certo punto questa è una canzone che richiede anche un po' di protagonismo del pubblico eh sì richiede un po' un aiuto ecco quindi vabbè se la conoscete la conoscete sicuramente però i pochi che non la conoscessero capiranno istintivamente cosa fare nel momento del bisogno diciamo nel momento del bisogno anche se non sapete il testo le parole perfetto bravissima Paola Cortellesi a bocca chiusa fatece largo che a fare come sempre la figura dei fregnoni a me di questo sai non me ne importa niente io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo ho forse per decenza che partecipazione certo è libertà ma è pure resistenza e non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi né caschi per nascondermi o santi a cui rivolgermi ho solo questa lingua in bocca e forse a mezzo sogno in tasca e molti molti errori brutti io però li pago tutti fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade via Merulana così pare un presepe e siamo tanti che qua si fa paura e solo tre sfigati come dice la questura e le parole si lo so sono sempre quelle ma è uscito il sole e a me mi sembrano più belle scuola e lavoro che temi originali se non per quella vecchia idea di essere tutti uguali e senza scuola per proteggermi né armi per difendermi né caschi per nascondermi o santi a cui rivolgimi e solo questa lingua in bocca se mi tagli pure questa io non mi fermo scusa canto pure a bocca chiusa aspetta 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 guarda quanta gente c'è che sa rispondere dopo di me a bocca chiusa guarda quanta gente c'è e sa rispondere dopo di me a bocca chiusa guarda quanta gente c'è a bocca chiusa guarda cortellesi e daniele silvestri a propaganda live ma lo scherzone qualcun disturbo vieni qua un attimo un secondo daniele silvestri pubblicità e ancora complimenti a tutti grazie a tutti grazie a tutti